Bella a tutti ragazzi, sono Cristian177 e bentornati sul mio canale. Sono in compagnia dei miei amici, vi faccio vedere nell'elenco Select. Siamo tornati con un primo episodio della serie Skywars. Salutate. Ciao. Ciao. Ciao YouTube. Ok, perfetto. Ciao. Possiamo procedere a questo Skywars. Allora, abiliterò tutti. Fermi fino a quando non vi dico via. Ok? Fino a quando non dico via non partite. Ok. Allora, 3, 2, 1, via. Perfetto. Allora, le regole sono semplici. Allora, bisogna, con la roba che si ha qui, bisogna sopravvivere e spostarsi di isolette grazie ai blocchi che si trovano ognuno sulla sua isoletta e cercare di spostarsi e uccidere tutti. Chi vince chi uccide tutti o butta giù tutti dall'isolo. Con che blocchi? Non valgono team, quindi non vi fate venire idee strane. Nel caso che qualcuno muoia, esca subito. Se no... Se no... Se no... Se no... ciao master Pepe chi è che l'ha ucciso? Luca Prattino Attore l'ha ucciso e io sono uno bene, sarei il prossimo a morire perché mi servivano le sue cose ok 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 dobbiamo organizzarci bene vediamo vediamo buon nottino io lo sapevo bella Pietro ciao Pietro ciao la gente morino con una velocità incredibile quelli la più piccoli perché sono tipo a notch a giocare a Minecraft vai sottovalutami andiamo all'azione ok voi avete cappato e io vi ho più ucciso ma chi toccherà ad un po' ma chi toccherà ma chi toccherà ma chi toccherà ma chi toccherà quanti siamo 1 2 3 4 5 6 ma poi tu ci devi dire come si chiama il video quello nooo allora trova il mio canale e poi il video intanto lo carichero lì allora mi chiamo Christian177 guardalo dal menu select dopo 5 5 oppure david555 vabbè non ho fatto nessun video perchè non ha quella tipo di webcam che è quello la che è quello la che è quello la che è quello la grazie nooo vabbè abbiamo avuto la mia vendetta ciao ciao ci siamo arrivati a sorpresa poverino 5 siamo disaprovvissi non vi lo percino no vai uccidimi dai quello blu dai ti ha quello blu peppe vai uccidimi dai vieni allora ora ci possiamo fare la spada diamante perchè abbiamo preso il suo diamante quindi dai me che sto vincendo io dai chi vince e vince però se uccidiamo è capisano non c'entra niente vabbè il capitano sta guarda solo le isole controlla se sta qualche hack non urlare troppo che sennò la gente diventa sorda poi tengo paura vieni tifona luca ti ho fatto già mezzo passaggio dai e dai vieni o hai fifa luca non urlare no 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 non ce l'ho fifa lo ho perso e' perso non fate pubblicità stranita fila fila e' verifici passi fila significa paura la st questo significa calcio quando ho il cuore un bambino dai dai vitu secondo me tu hai finito dai fila o l ahahah tutto e passager infatti alietà vieni tu lei lo chi fa? la top 10 a me ah ah ma questo qua abbandona ciao elettro mi dispiace adios buongiorno abbandona siamo rimasti in quattro oh da mo ci fai fare i tecchi spettatori è perchè è una vaga sensazione di che morirò chi è che c'ha l'arco overpower? quello che andrà dal centro no io sono al centro ma non ho il super arco ma vedilo vedilo come mi distrugge la terra e si tengo fifa dai vai kree vai kree vai kree fai kree 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 vai da lui eh si è chiuso vai da lui eh vabbè spezze e blocchi no? ahiaiaiaiaiaiaia ja si senta si 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 luca dai per favore mi fai stare posso stare posso stare posso stare non mi piaceva dirgli dino mi sa che i detti o no Madonna, mi ho paurissima Minchia, ci aveva il super arco Una strana Però non ha le frecce, cazzo Non me ne faccio niente Vieni qui, vieni qui da me No, no Quanti siamo, aspetta Tre Cioè, ma che non si sia stato lì per i cazzi suoi E non hanno fatto niente Dai, hai chiediti Che c'è tutto il passaggio Merda Che tu sarai tutto full ferro Vabbè, ho ucciso un bel po' di persone che avevano tutto ferro E quindi? Allora, però non ha le frecce, cazzo Io c'ho solo un corso a letto Frecce, frecce, frecce Ma poi le scarica altre mappe, Cri Aspetta Che po' se giochi sulla costa Dai, vieni, vieni Vieni, stronzo Vieni Ah, no 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 Ma gioco che... Hai le frecce? Dai, vieni avanti Dai, hai il coraggio Ma chi è quello? C'è uno che è proprio rimasto nella sua tana Fino adesso Armageddon E Armageddon Aspetta, vado a prendere lui Poi ci penso io Infatti Ah Facciamo il loro di act Batch E su due volte Si mi uccidi su due volte Che arrivo secondo No No Stronzo Stronzo, no No Aiuto 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 Che fifone Aiuto Aiuto Sì, sono un fifone Vabbè, se tu sei fuori E ce la spadinaia Non dirò, non cazzo In confronto Tu che avresti fatto Sì, sarei scappato anch'io Sinceramente Sì, sarei scappato anch'io Decisamente Mi servirebbero le frecce, cazzo Le frecce Vabbè, vabbè Il cuantino Ma Armageddon Si sta muovendo Almeno Perché se non si sta muovendo No, no Si sta muovendo Non lo so Si, ma camminare in bilico Su queste cose È brutto Cioè, no Appena vado qua sopra Sento Io mo cado Cioè Sicuro Ho trovato del carbone Adesso mi faccio Full ferro Se cazzo No 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 Non posso invitarti Perché abbiamo già Conciuto Se avessi le frecce Se avessi le frecce Sareste morti tutti Mi avresti fatto il culetto Ma non ho frecce E non mi serva niente Cazzarola 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 E poi qui Non è tutta questione Di chi è più forte In armatura E robe del genere Perché basta un colpo Anche di pugno E butti giù uno Dallo Skywars Lo so Però Se metti che uno Va Un po' diverso Come questo Se uno Non ti butta giù Lo so che è anche Questione di culo Lo Skywars Però Ma Armageddon È fermo lì Dall'inizio Cazzo Dobbiamo arrivargli Da due lati Ad Armageddon Perché sennò Ci ammazza Eh sì Ci ammazza Eh basta Che ci dà un colpo Giusto E ci culla tutti E potremmo qua Usano le tecniche Dello Skywars Del computer Perché ci mettono Fanno dei fatti sopra E poi saltano Sopra la gente No Non attiva il culetto E poi C'ho paura No ma perché Mi guarda male Sono contento che il giocatore È morto Mi sono vendicato Sua b Incredibile Che prendiamo un cazzo In effetti Dopo che ho visto il video Posso anche dire Che hai fatto bene Aspetta Mi fai preparare un altro pochino Se lo uccidi Perché Sto un po' messo male No Dai Non fate di senso Ti prego Ma questo qua Non ha preso manco il ferro Dall'inizio E ora rimani tu Ho paura Ho paurissimo E siete uccida Che facciamo Aspetta Mi fai mettere un pochino No Devo buttarmi Su di te a destra No No Non lo serai mai Minchia La tensione è al massimo Dove stai? Andiamo 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 Ma dove sei? T'ho perso Ma dove sei? Mi senti? Siamo rimasti Io e te Siamo rimasti Eccoti Sì ma non ti trovo Dove sei Paolo Paolo Eh Peppe scusa Eh Paolo Eh sono shiftato in un angolo No ma seriamente Dove sei? Perché ho paura In un'isola Mi sto facendo L'armatura Sì ma non ti vedo No 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 Aspetta Un attimo Sì mamma Ma dove sei? Ti sei camperato da qualche parte Dove sei? Sì No mamma No mamma No mamma Mamma Proprio No 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 Aspetta 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 Un attimo Che devo fare Una cosa Qua 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 Mamma Veloce Dai Non posso stare Il quartiere Stavo vicino Alla bambina Dimmi dove sei Ma sei camperato Sto davanti a te Ti guardo Ti sto fissando Non ti vedo Ne ne Mo mi vedi Ah Eccoti li Abbiamo scritto Sei vivo? Sì che sei vivo Tanto non c'è No Sì minchia Due Due cuori Due cuori No No Ah No Non ho neanche fatto La mela d'oro Prima di colpirti Si prendeva al centro No Ho ucciso qualcuno Che ce l'aveva Allora ce l'avevo anch'io Poi avevo l'arco Che non mi serviva Un cazzo Perché Senza frecce Minchia Vieni qua Che ti sei meritato Vieni qua Che ti sei meritato Un secondo posto Saluta Youtube Ciao Peppe Allora Il video per oggi E' finito Dove cavolo E' il coso Ok Bella a tutti ragazzi Al prossimo Video Grazie a tutti